salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi mi trovo qui per insegnarvi fondamentalmente a utilizzare blender ovviamente non riuscirò a coprire tutto quanto in un intero video motivo per cui questa sarà una vera e propria serie una serie in cui settimanalmente vi andrò a dare piccoli tip piccole cose per partire proprio da zero e arrivare a fare progetti abbastanza complessi ora ovviamente mi incentrerò principalmente sulle animazioni a tema minecraft perché sono quelle che porto sul canale ma potete utilizzare queste cose per qualsiasi animazione o qualsiasi progettino voi vogliate fare appunto utilizzando blender dunque direi quindi iniziamo subito tenete a mente che tutti quanti i software che andrò ad utilizzare sono open source quindi per esempio non so potete scarcarli liberamente vanno bene per qualsiasi piattaforma io sto utilizzando pop os quindi linux fondamentalmente ma se avete windows o mac va assolutamente bene e parliamo di questi programmi il primo ovviamente è blender ovviamente quindi il software che attorno a cui si incentra tutta quanta la serie potete scaricarlo velocemente su questo sito quindi blender.org molto tranquillamente ve lo lascerò ovviamente qui sotto in descrizione però per l'appunto è un software gratuito potete andare qui vi scaricate nella sezione download tutto quanto e niente il gioco è fatto fondamentalmente come potete vedere ci sono tutte quante le varie piattaforme l'ultima versione uscita di blender è la 2.93 ma io utilizzerò la 2.8 ok è un attimino più stabile per certe cose per altre no però insomma la 2.9 è molto molto simile non preoccupatevi perché comunque sia queste cose dovrebbero valere anche per almeno un altro paio d'anni poi magari cambieranno di nuovo tutto quanto e non si capirà più niente questo tutorial sarà inutile questo però è un altro discorso quindi detto ciò blender ci serve perché è quello qui attorno al quale girano tutte quante le cose di questa di questa serie vi servirà necessariamente la seconda cosa che vi servirà è questa quindi mc prep anche in questo caso vi lascerò il link in descrizione permetterà di poter leggere le texture di minecraft fondamentalmente all'interno di blender con comodità e anche di utilizzare certe feature particolari che sono per l'appunto integrate all'interno di mc prep come non so importare delle cose che già si possono muovere importare dei rig eccetera eccetera poi vi spiegherò che cosa sono i rig soprattutto per quelli che magari sono proprio le prime armi non preoccupatevi ci arriveremo e mi raccomando questa cosa è abbastanza importante quindi scaricatela se no dovrete caricare manualmente tutte le texture e poi sono cazzi vostri fondamentalmente mentre l'ultima cosa che ci servirà è questa mineways mineways è un software purtroppo abbastanza vecchiotto che comunque sia però permette di importare tutto quello che c'è all'interno di un mondo di minecraft e metterlo fondamentalmente su blender molto semplicemente ci sono vari software in realtà che permettono di fare questa cosa io utilizzo questo ma per la appunto voi potreste eventualmente trovare delle alternative nel caso comunque vi lascio tutte quante delle info qui sotto in descrizione anche in questo caso potete tranquillamente scaricarvi il programma gratuitamente ma partiamo proprio dall'inizio ok quindi facciamo finta che sia la prima volta che voi vi approcciate a questo mondo di blender delle animazioni e tutto quanto la prima cosa che vogliamo fare è creare una cartella specifica per questi tipi di cose perché se no viene fuori un casino non si capisce più niente quindi crea una nuova cartella la chiamo minecraft animation animation facciamo tra parentesi tutorial così la posso affiancare alla mia altra cartella che è questa qua dove ho per l'appunto tutti quanti i miei file questa qui la utilizzerò invece per i tutorial quindi in modo che lo sappiate pure voi all'interno di questa cartella vado a creare un'altra cartella che si chiama world quindi mondo praticamente perché ho messo una parentesi non lo so però questa qui sarà fondamentale qui dentro andremo a mettere tutti quanti i mondi su quali vogliamo reali su quale vogliamo lavorare e poi vado a creare un'altra cartella che chiamerò render ok qui dentro andrò a mettere tutti quanti rendering quindi il prodotto finale dell'animazione ci arriveremo è una cosa molto c'è che affronteremo molto più in là però per il momento la lasciamo qui dopodiché ci serve minecraft ovviamente in realtà non è prettamente necessario avere il gioco però tenete a mente che è molto più semplice perché potete costruire le vostre strutture e poi importarle però nel caso non abbiate minecraft potete chiedere un amico e quindi scrippare direttamente questo passaggio e andare al prossimo però insomma adesso vi faccio vedere tutto quanto quindi apriamo minecraft e creiamo un mondo io in questo caso l'ho già creato quindi sono qui la situazione è questa ho creato questa casetta proprio in dieci minuti veramente una cazzatina ma la utilizzerò per insomma questo tutorial deve essere il più semplice possibile in modo che voi capiate senza problemi tenete a mente che ovviamente per fare sia le build su minecraft soprattutto se magari sono molto grandi per anche utilizzare blender vi servirà una scheda video una scheda grafica se l'avete dedicata tanto meglio nel senso se non è una scheda grafica integrata vi faciliterà molto di più la vita anche se in realtà ho visto persone e l'ho fatto anche io renderizzare utilizzando la cpu il processore è un po' un casino però si può fare comunque eccoci qui ho creato questa casetta molto molto semplice e ho in realtà però tenutamente un paio di cose che vorrò poi andare a spiegarvi quindi per esempio il fatto di aver messo tutte quante queste vegetazioni mi permetterà in seguito di andarvi a spiegare come creare questo effetto di oscillazione tipico delle shaders oppure per esempio il fatto che abbia creato questa finestrella qua in alto mi permetterà poi di fare dei giochi interessanti di luce all'interno della stanza così come le torce vi andrò a spiegare come creare queste particelle tutte quante cose che in automatico blender non fa ma che si possono andare a ricreare senza sclerare troppo con qualche piccolo magheggio detto ciò questo mondo per il momento possiamo metterlo da parte quindi voi potete costruire quello che volete e teniamolo da parte la cosa migliore però è che poi voi andiate a prendere un blocco qualsiasi in questo caso io prendo la lana magenta per esempio mi metto in questo punto ok e creo un pattern incasinato non è fondamentale che sia una cosa precisa però insomma createvi uno spot un qualcosa di un colore che sia ben visibile diverso dai blocchi che avete attorno ok questo ci servirà per localizzare più facilmente l'area di interessi in realtà vabbè qui c'è soltanto questa casetta però tenetamente che è una cosa che potrebbe tornarvi utile questa e voi direte spottare in che senso c'è in che senso dobbiamo trovarla è già qui ecco sì ma no adesso dobbiamo chiudere minecraft quindi chiudo video proprio tutto quanto il programma vi ricordate mineways quindi il programmino che stavo vedendo prima perfetto vado ad aprirlo una volta aperto mineways dovrebbe presentarsi più o meno in questo modo quindi una volta che l'avete scaricato l'avete aperto e siamo pronti effettivamente per avviarlo o meglio per utilizzarlo l'altra cosa che ci serve è il mondo di gioco quindi possa andare qui dentro nella cartella word e andare incollare questo qui che fondamentalmente è il mondo di gioco da dove l'ho preso beh molto semplicemente dalla cartella di minecraft ora se voi siete su windows dovete andare tipo in percento up data per cento punto minecraft insomma solito procedimento andate da lì dentro prendete il file che contiene tutti quanti dati del mondo quindi questo qui fondamentalmente e ve lo mettete qua da parte all'interno della cartella che avete creato prima word perfetto ora questo punto possiamo effettivamente andare utilizzare mineways quindi vado su file open come potete vedere sono all'interno della scrivania posso andare a recuperare minecraft animation tutorial la cartella word la cartella minecraft animation tutorial effettiva quella del salvataggio del mondo diciamo e andare a selezionare il file level punto dat è questo che ci serve clicco su apri aspetto qualche secondo e questo qui è il mondo che si è andato a generare perfetto in questo caso è diciamo è un mondo normalissimo quindi è molto facile spottare la struttura che ho costruito che è esattamente questa per muovermi all'interno sto utilizzando la rotellina del mouse per zoomare e dezoomare il tasto sinistro per spostarmi e quindi mi avvicino il più possibile alla struttura che ho realizzato ora voglio andare a recuperare una zona relativamente grande della mappa qui però dovete fare attenzione più è grande la zona da insomma che volete andare a esportare più potrebbe richiedere tempo il rendering all'interno di blender e potrebbe essere lento proprio il programma quindi vi suggerisco di fare una selezione con il tasto destro più o meno di queste dimensioni cercate di evitare cose troppo grandi perché se no per l'appunto si sclera un pochino e poi il blender diventa lento diventa inutilizzabile insomma non è molto pratico poi una selezione del genere direi che va abbastanza bene ecco magari cerco di renderla il più centrale possibile tipo in questo modo dire che non è affatto male a questo punto dobbiamo assicurarci che effettivamente stia copiando tutti i blocchi quindi questo qui è il blocco delle altezze invece c'è proprio scritto altezza più io l'abbasso o l'alzo più vedete che posso andare a cancellare il layer del mondo ora in realtà non mi serve che sia così tanto alto ci sono un sacco di blocchi d'aria inutili posso andare diciamo ad abbassare questo valore finché vedo che non cominciano a sparire blocchi tipo qua in basso stavano sparendo delle cose quindi non vogliamo che sia così in basso magari un filino più alto perfetto così va benissimo dopodiché regoliamo la profondità quindi questa qui è depth profondità posso andare a aumentarla però vedete che così tolgo la selezione oppure posso andare a scendere 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 diciamo che scendo ancora un pochino così e poi mi fermo non voglio arrivare fino alla bedrock ragazzi non avrebbe senso a questo punto vado su file export for rendering mi vado a selezionare la cartella world quindi proprio il mondo questo qui lo posso andare a chiamare non so per esempio casa tanto è giusto così per fare un esempio come potete vedere tipo di file wavefront obj ora questa cosa è essenziale che cos'è obj sta per object e è un formato leggibile da blender che permette appunto di importare correttamente tutto quanto quindi la forma proprio dei blocchi e anche le texture quindi vado a cliccare su salva a questo punto voglio andare a cliccare split by block type questa cosa è essenziale e permetterà fondamentalmente di andare a suddividere quello che abbiamo esportato per tipologia di blocchi a questo punto posso andare a cliccare su ok ok come potete vedere mi ha dato un errore è normale potrebbe starci in questo caso quello che vi suggerisco è chiudere riavviare di nuovo mineways ma questa volta cliccare su help e poi give more export memory questa è una cosa che potrebbe aiutarvi appunto a renderizzare le cose cioè a esportare le cose con mineways come detto è un programmino abbastanza vecchio quindi potrebbe ogni tanto diciamo dare problemi però niente di cui preoccuparsi facciamo così questo lo regola un attimino in questo punto e ci siamo file export for rendering lo chiamo di nuovo casa salva split by block type ok perfetto ce l'abbiamo fatta ha esportato anche se con questo piccolo disguido ragazzi molto molto semplice l'abbiamo risolto in due secondi posso chiudere a questo punto mineways perché non mi servirà più e invece mi servirà blender quindi finalmente apriamo il programma che abbiamo scaricato prima a questo punto come mi muovo all'interno di blender come funziona tutto quanto questa cosa prima di tutto vi suggerisco qualche shortcut andiamo qua in alto su edit preferences e clicco su key map perfetto ora dobbiamo assicurarci di essere con questi settaggi qui ok quindi come tipo di selezione del mouse clicchiamo su right quindi su destra fondamentalmente vado a cercare qui nella barra di ricerca navigation perfetto e andiamo a modificare questa impostazione su shift f quindi adesso vado a rifarlo shift f perfetto di base è tipo shift e un trattino io ovviamente l'avevo già fatto in passato ma voi appunto cliccate qui sopra e mettete shift f molto semplicemente andiamo su save and load e vado a cliccare su autorun python scripts questa cosa è essenziale quindi di base disabilitata voi abilitatela è importantissimo dopodiché posso andare qui su addons clicco su install e andando poi nella cartella download posso andare a recuperare il file zippato in precedenza che riguarda mcprep per intenderci questo qui quando andate a cliccare su download mcprep vi scaricherà un file zippato voi lasciatelo zippato proprio lasciatelo così com'è e poi quando siete su blender cliccando qua su install semplicemente andate a rintracciare quel file zippato proprio tranquillamente dopodiché una volta cliccato una volta localizzato quel file andate qui e cliccate su mcprep cercate mcprep e assicuratevi che sia spuntato quindi che sia abilitato a questo punto posso andare a chiudere questa finestra che cosa succede adesso? dunque prima di tutto abbiamo abilitato mcprep e cosa ancora più importante sono andato a rendere blender utilizzabile quindi facilmente maneggiabile diciamo con la rotellina del mouse posso andare a muovere la visuale in questo modo tra l'altro fatemi abilitare qua di lato lo screencast key perfetto questo è un piccolo plug-in che ho aggiunto che mi faciliterà un attimino la vita ragazzi quindi qua in basso voi vedrete tutti quanti i tasti che sto utilizzando in questo modo non devo necessariamente dirveli sempre tutti quanti quindi la rotellina del mouse posso comunque spostare questo a questo punto premendo shift f e poi w asd ok adesso voi non lo potete vedere ma sto premendo w asd mi posso spostare in giro ok premendo shift posso andare ancora più veloce sempre tenendo premuto w asd quindi questa cosa mi permette di muovermi più o meno come in un videogioco ora cosa succede? se io premo il tasto sinistro confermo la posizione quindi adesso sono in questo punto ok se io invece premendo shift e poi w asd mi sposto in giro e poi premo il tasto destro ritorno nella posizione precedente al movimento ora questa cosa è essenziale una volta che voi fate animazioni su blender o comunque utilizzate questo programma ovvero se state facendo un movimento e volete confermare quello che state facendo durante il movimento in corso premete il tasto sinistro se invece volete annullare dite non so cazzo no non volevo essere qui voglio tornare dove ero prima tasto destro ok occhio che non è come il ctrl z ok potete soltanto annullare il movimento in corso altre cose che potrebbero tornarvi utili innanzitutto andiamo ad abilitare in questo punto le freccine di movimento però come potete vedere spostare il blocco in questo modo tra l'altro vi faccio notare che se lasciate andare il tasto sinistro si posiziona in questo punto ma se poi faccio così e clicco il tasto destro lui ritorna nel punto iniziale ok molto molto semplice però dicevo come potete vedere spostare il blocco in questo modo è veramente scomodo che dite il modo migliore è premere G in questo modo quindi posso spostare il blocco come voglio e poi ancora una volta tasto destro ritorna nel punto in cui era all'inizio del movimento invece se premo il tasto sinistro si ferma in questo punto molto semplicemente con il tasto S posso andare a scalare la dimensione in questo modo vi consiglio di posizionare il cursore del mouse non eccessivamente vicino al centro dell'oggetto che state selezionando se no si ottiene questo effetto strano sminchiato che non ha senso se vi allontanate la precisione con cui potete andare a scalare l'oggetto è maggiore quindi cursore del mouse non troppo vicino non troppo lontano una via di mezzo diciamo in questo punto in modo che possa andare a scalare con comodità ancora una volta tasto sinistro confermo invece tasto destro faccio tornare nella posizione in cui era all'inizio molto semplicemente stessa cosa vale per il comando di rotazione posso avere due tipi di rotazione R che mi permette di ruotare in questo senso ok ancora una volta vi ricordo non troppo vicino sono tutto quanto sminchiato non troppo lontano se non si capisce una sega in una via di mezzo ok diciamo che così va bene comunque questo è quello che succede se premiamo una sola volta R è più o meno come se ci fosse una specie di spiedo che parte dal centro dei nostri occhi e finisce all'infinito in avanti quindi questo cubetto ci gira attorno se premiamo un'altra volta R posso ruotare su tutti gli assi questa cosa è fantastica mi permette di fare cose molto strane in questo modo è molto più comodo diciamo per le rotazioni quindi ancora una volta R una sola volta ruota in questo senso R due volte ruota in tutti i sensi in tutti gli assi altri comandi che potrebbero tornarvi utili e poi basta direi che iniziamo effettivamente è Shift D mi permette di duplicare tutte le volte che voglio un oggetto e tutte le sue proprietà altre cose che potrebbero tornarvi utili se premo Shift S vedete che compare questo menu istantaneo ok a una volta che poi ovviamente lascio andare i tasti il menu scompare ma se tengo premuto Shift S e poi mi sposto con il cursore del mouse posso andare a cliccare per esempio Selection to Cursor questo qui perfetto quello che è successo è che fondamentalmente il cubetto si è spostato in corrispondenza di questo cursore qua questo pallino qui che io posso andare a spostare praticamente dove voglio in questo modo è il cursore tridimensionale mi piace chiamarlo così effettivamente si chiama 3D Cursor quindi Cursore tridimensionale ci sta è una buona traduzione quindi premendo Shift S poi mi sposto in giro e per esempio seleziono Selection to Cursor mi va a teletrasportare il cubo esattamente nel punto in cui si trova il cursore tridimensionale molto semplice se diciamo che volessi resettare tutto quanto in modo che il cursore si trovi esattamente nelle origini degli assi Shift S Cursor to World Origin in modo che il cursore vada qui e poi Selection to Cursor perfetto molto molto semplice prima di concludere il video voglio darvi ancora qualche tip utile che potrebbe insomma aiutarvi più avanti all'interno di questa serie di tutorial tirando su questo menu che abbiamo qui in basso abbiamo accesso alla timeline vedremo più avanti come funziona per il momento non ci serve però altre cose che potrebbero tornarvi utili sono queste cose qui questo pannello qua laterale andando a cliccare su questa specie di piccola televisione dobbiamo assicurarci di essere con il render engine EV eccolo qui mi raccomando è molto importante in passato io utilizzavo Cycles ma da quando hanno implementato questo nuovo motore di rendering EV all'interno di Blender ho sempre utilizzato questo c'è da dire che è un po' più impreciso rispetto a Cycles però è anche molto più veloce e questo mi permette di lavorare con le animazioni che faccio on a daily basis quindi diciamo più o meno tutti i giorni molto più rapidamente senza sclerare tanto con Cycles che ci mette tanto tempo per renderizzare per quanto ovviamente la qualità di EV sia un po' inferiore poi in realtà vi farò vedere dei confronti noterete che non è neanche così tanto vi faccio vedere un po' di modalità di visualizzazione di questo oggetto di questo cubetto prima di tutto che cosa sono questi oggetti questa è la telecamera col tasto destro posso andare a selezionare qualsiasi oggetto ok la telecamera posso spostarla in questo modo posso ruotarla posso farci quello che voglio ma per vedere quello che vede la telecamera ok devo premere non pad 0 ok quindi se non avete se avete il tastierino numerico nella tastiera premete non pad 0 e vi andrà in modalità telecamera in questo modo se no molto semplicemente andate su edit preferences key map cercate camera e dove qui dice view camera andate a modificare lo shortcut ricordatevi che verrà renderizzato soltanto quello che viene visualizzato dalla telecamera quindi non commettete l'errore che fanno tanti di dire ok posizione vari oggetti nella scena renderizzo quello che vedo qui non si può fare o meglio si può fare ma è quello che si chiama viewport rendering non ci serve però noi dobbiamo utilizzare questa modalità qui la modalità telecamera questo cazzillo qui invece è la fonte di luce ne esistono tanti proprio di tanti tipi ma questo è quello che c'è di default vi spiegherò poi più avanti come modificarli vi basti sapere per il momento invece che esistono quattro tipi di visualizzazione di quello che vediamo appunto adesso nella scena il primo si chiama wireframe qui in alto ci sono queste impostazioni di appunto modifica della visualizzazione wireframe mi permette di vedere il come possiamo chiamarla la struttura in fili tra virgolette dell'oggetto che ho davanti in questo caso di questo cubetto la modalità solid crea effettivamente il cubo ma senza texture senza nulla proprio il cubo così com'è la modalità material quindi questa qui mi permette di andare a vedere il materiale effettivo dell'oggetto ok con anche le texture ora in questo caso ovviamente non ha una texture questo cubetto quindi è completamente bianco infine la modalità rendering quindi questa qui mi permette di visualizzare effettivamente poi come verrà renderizzata la scena quindi come potete vedere se io sposto il punto luce cambia anche l'illuminazione attorno al cubo cosa che non succede per esempio se sono nella modalità material vedete se passo in modalità shading o comunque rendering come potete vedere vedo anche il modo in cui la luce si comporta nei confronti dell'oggetto ora perché prima vi dicevo è meglio se utilizzate Eevee piuttosto che Cycles se non dovete fare animazioni o comunque rendering estremamente complessi se adesso io switcho a Cycles vedete che l'immagine fa molta più fatica a comporsi e tenete presente che io adesso vabbè sto utilizzando la CPU ma volendo abilito la GPU quindi in questo momento sto utilizzando la mia RTX 2060 certo il ok va veloce ma non così tanto veloce quanto Eevee che come potete vedere è istantaneo è super preciso e quindi è molto più comodo per questo tipo di lavoro che vi andrò a spiegare per questo tipo di cose che vi andrò a spiegare in questa serie di tutorial ma detto ciò ragazzi direi che per il momento è tutto penso di aver già blatterato abbastanza settimana prossima ci vedremo con il prossimo tutorial con il secondo episodio potremmo dire in cui vi andrò a spiegare fondamentalmente come importare il mondo di gioco quello che abbiamo esportato prima come ottimizzare la scena eccetera eccetera mi raccomando se volete seguire questa serie di tutorial in maniera attiva e quindi insomma siete interessati a continuare a vedere i prossimi episodi vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi al canale fatemi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualcosa che non avete capito se avete dubbi in generale e io cercherò di rispondervi a tutti quanti insomma per il momento è tutto ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio di questa serie di tutorial di blender e niente ragazzi mi raccomando passate anche in descrizione che c'è il link del canale di telegram molto molto importante in cui vi aggiorno su un sacco di cose tutti i giorni per il momento è tutto al suo next time